ciao teo ciao vale allora in questo video io adesso aprirò una box che è una collaborazione che ho fatto mesi fa mi è arrivata finalmente adesso di un sito che si chiama uobox e quindi io spacchetterò con varie modalità che poi vedrete questa box durante questa live poi la ricaricherò su youtube in formato ristretto quindi chi c'è dentro questa live bene altrimenti se la vedranno su youtube perché poi comunque da qua la tolgo quindi avete il privilegio di vedere lo schifo live è molto bene i vantaggi e le fortune della vita cattroia cominciamo bene a sì che una collaborazione di un sito che si chiama uobox e le cose le ho scelte io tipo tre mesi fa quindi non mi ricordo assolutamente in cazzo e non so neanche che cosa siano perché mi è arrivato così cioè a parte che come vi permettete a portarmi un pacco così vabbè non ve lo faccio vedere più di tanto perché c'è l'indirizzo però è mezzo sradicato me l'hanno messo in ascensore dicendo lo metto in ascensore chiamato grazie sarah sarah 262 corezzinino quindi spero che ci sia tutto perché il fatto che sia aperto qua in cima e che ci sia un po di spazio mi fa pensare male mi fa pensare che qualcuno ha fatto floppy 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 in the face cioè schiaffi proprio potenti spieghiamo come verrà fatto lo spacchettamento sondaggi sì allora dunque faremo dei sondaggi per capire come aprire i pacchi anche se in realtà ho visto che i pacchi sono tutti già aperti quindi sarà semplicemente l'estrazione dalla scatola quindi mi raccomando raghi non fatemi uscire ai piedi cose varie se fosse mai possibile perché qua abbiamo capito che il buco del culo su twitch lo puoi mostrare i piedi no perché i piedi sono un po troppo spinti e troppo sessualizzati capisco eh cioè proprio il massimo del godereccio al piede top ora parto con un sondaggio generico per distruggere la dignità di stifi ma cazzo devo ancora aprirlo già partiamo male nei prossimi cinque minuti dovrò parlare solo napoletana parlare con solo vocale u parlare con la feppola parlerò cantare ma che cazzo di problemi c'hai raghi ma io dovevo aprire i pacchi quanto dura sta sondaggio sta finendo sta finendo ah mette anche il timer c'è proprio roba professional qua devo iniziare a parlare con la vocale u quindi gruzzo volo provo contributo con il nuovo ciotto accio conto punto toccio tu fu un culo ora mo chiamo mio momo non so male ora mo chiamo mio momo come do cio pronto volo forcuso e non posso parlare così sembro quello di tuk tuk che dice fatto seguo come cazzo si chiama con la rossa sombro cuolo porcuatro sombro cuorono monoggio sbrofono fu nonno sombro nolo con problemo d'omonto questo rosso un po' rosso cocoldo cocoldo tomo piaccio tomo piaccio non tomo piaccio babusco sono però rotto cozzo quanto d'ora c'è un comandato mi sembra d'aiuro che parlo così cos'è un po' rosso dello ciullo cromoso eeeh posso cos'è un pollo ciuffo un cuno sono molto tra rosso e sordo cocoldo cocolde cocolde ah ancora tromanato ma come fai ce parlo così pistrelo pistrelo postrolo postrolo son doggio un corso cocoldo foforo mo astruziono do do to piadolo ma no no cocoldo do to piadolo rogo come faccio co piada rogo non stato buono ma no come faccio come cozzo faccio rogo come so fa astruare un po' da co con lo detto da pade cioè che cazzo c'è ho po' do pronsolo no no non posso porro quattro logo scoporo mo piaccio ciorro no non è buono non è possibile ancora domenuto do io oro che parlo così ma romatro ah ok posso non riesco più a parlare con le vocali normali adesso adesso estrarrò il pacco con i piedi che tra l'altro è proprio l'igiene questo pacco sarà stato anche nella ficca di nonna deve e io raghi però devo un attimo togliere l'etichetta perché so già che sbandierò l'indirizzo così come non ci fossero domani ciao ah si tu portata comunque ho fatto ora dovrei prendere questo pacco con un piede però ecco raghi qualcuno mi deve spiegare come io possa prelevare un pacco col piede cioè senza far vedere il piede perché sennò mi banano il canale aspetta è stato più facile del previsto raghi è uscito come perché c'è una parrucca arancione raghi me la devo provare immagino vero cioè e infatti lo so che sono bannata beh abbiamo una parrucca arancione arancione eh certo allora togliamo la retina raghi ma con sto caldo mi tocca provare sta parrucca beh devo dire un bel colore proprio sobrio e delicato una fanta sfumata sul biondo ma che è vabbè la devo provare immagino raghi ho scoperto sto metodo bellissimo per diventare una rapina aspettate no aspetta aspetta lì rimero verso sarancio allora praticamente dovete fare così poi mettete tutti i capelli dentro e fate così e lo scrollate vi viene questa specie di sembro un muffin in realtà tiene tutti i capelli è tatticissimo sì sembro un preservativo lo so prendetemi che è madonna ma cos'è sta cosa questo ah il mio orecchio dicevo esce qualcosa il mio orecchio raghi ma cazzo cos'è sta roba ecco qua milva esatto però la parrucca beh a parte che mi sa di merda però la parrucca di per sé non è brutta non è brutta come parrucca è fatta bene a parte che vabbè sto perdendo più peli che la bagiana di una novantenne marematra però però nel complesso è a parte questo che vabbè non è una brutta parrucca e la devo tenere o la posso togliere facciamo il sondaggio tanto non è neanche da chiedere lo so già che non è neanche da chiedere perché quando uno ha degli scritti che a cui proprio può affidare la vita non sono io chiaramente scattiamo qualche foto per instagram ma l'etichetta quanto fashion è? beh ho capito devo tenerla va bene va bene ma no raghi sto morendo va troppo caldo ma guarda caso sta vincendo la tengo mamma mia posso sempre affidare la mia esistenza ai miei follower raghi sto morendo mi sta pezzando anche il buco del bubo del bubo il buco del bubo fategliela togliere che schioppa in line l'acqua ti aiuta a sentirti meglio grazie per le notifiche water time ma si può si può condurre una vita così si può bene cosa ha vinto andiamo a vedere ah mancano pochi secondi la tengo ma guarda un po' ah 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 adesso devo aprire il secondo pacco che mi sembra di capire se è un'altra parrucca ma non sono tutte parrucche state tranquilli però vedo che questa è palesemente una parrucca come devo estrarla? è qua vedete qua allora vediamo il secondo pacco cucchiaio un solo dito normale eh un solo dito è complicato in effetti con un solo dito ragazzi ma com'è che scegliete sempre la peggiore fatemi capire oh ha vinto un cucchiaio allora abbiamo il cucchiaio cucchiaio beh col cucchiaio è facile credo va raghi questa apertura eh cioè è troppo facile raghi scusate ma è stato più facile del previsto allora un'altra parrucca quindi mi toglierò finalmente questa per mettermene un'altra vediamo com'è questa singhiaia yuppi yuppi yaya vabbè dobbiamo di nuovo la retina singhiaia yuppi yuppia com'è questa oh raghi questa è più corta grazie gesù che bello io spero che qualcuno entri no raghi sapete chi sembro come si chiama quello con i baffi così oddio dai avete capito quello che è biondo con i baffi così raghi non riesco a impuntarmi oh ho sentito un crack ho sentito un crack ah cioè no la parrucca è bella a me che sta di merda però non è brutta oddio l'altra era più bella quindi e con questa diventi crimine sarà che con la maglia arancione quindi sto colore però non ci piace però magari così così forse si bisogna tagliargli la frangia raghi più o meno cioè servono delle mollette fare una sorta di taglio qua davanti perché sembra una tenda nei prossimi oddio c'è un altro sondaggio nei prossimi cinque minuti parlare cantando ok aspettiamo il sondaggio e tanto allora io devo rimanere con questa giusto mi sembra di capire nulla di nuovo allora devo saltare sul posto ogni 30 secondi ma sei pazzo ma non lo farò mai raghi c'ho caldo cioè posso fare così al limite questo è il massimo che vi concedo perché io di alzarmi saltare ogni 30 secondi non l'ho fatto neanche in 12 anni di educazione fisica a scuola cioè vi concedo un saltellino tipo ogni tanto così che sembra che sia saltellando su delle capocchie io vorrei buonarmi ma non c'ho una lira e emi ma se hai amazon prime è gratuito distrazione terzo pacco ginocchia gomiti pollici mano ma nessuno che vota mano non vanno bene le mie mani no pensavo di sì raghi sto pacco mi sta facendo sudare ah scusate devo saltare eh sì 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 hai ragione hai ragione hai ragione non mi dimentico che devo saltare ogni tanto dimentico le cose giuste della vita che bello e per quanto devo farla sta cosa ne facciamo due così per gradire comunque con le ginocchia grazie grazie a tutti io volevo fare una cazzo di live normale mi tocca fare ginnastica vite parallele ginnasta e vite parallele 20 mila grazie come faccio ma è un altro cazzo di parrucca ce l'ho fatta raghi ma basta credo che sia l'ultimo sì grazie a gesù è l'ultima parrucca perché non vedo altro oh vedo delle cose molto belle abbiamo una parrucca color menta mi sembra di capire quant'è grossa no raghi questa fatemela togliere vi prego madonna tiene troppo caldo no raghi è tremenda però è parrucca è bella però è a me che sta di merda sinceramente però non è brutta cioè se uno deve fare appunto un cosplay vuole spendere una cifra moderata non è brutta guardate anche delle belle ondine però viene troppo caldo raghi è vero che me la fate togliere questa è vero che mi volete bene e me la fate togliere grazie jules Ariel con la muffa è vero aspetta no così dovevo farlo con l'altra l'arriccia spiccia raghi la tolgo ve lo dico la sto per togliere ah io devo ancora saltare no facciamone uno per gentilezza ma penso di aver finito quarta estrazione con i gomiti con i mignoli con la testa no ma cazzo ma come con la testa dai ma come me la infilo la testa dentro con la testa raghi ma papà ma come me la infilo la testa dentro oh mi entra proviamo così scendi scendi raghi non scende raghi non esce è qua è qua ma non esce non esce devo allargarlo fo e in teoria dovrebbe uscire eccolo bene ma no ma è di pe ah no bella questa è stupenda ne è valsa la fatica li vale tutti guardate che bella ma è bellissima è una borsa fatta a telefono no vabbè raghi sto adorando ma è il telefono no ma c'ha il volume non mi dire che posso collegarla in qualche modo e parlo al telefono non uscendo il telefono no ma io adoro perché vedete raghi grazie francina 86 curizzino sta borsa raghi è la vita ploppy ploppy ah c'ha pure il manichino perché giustamente è corta fa schifo un attimo raghi ma è stupenda c'è troppo bella però ah aspetta questo no raghi raghi non ci credo ah vaffanculo con l'iphone non si può fare lo faccio un attimo con il pc vediamo se si sente bene qualcuno mandi un sound alert per favore raghi non mi fate stare al telefono qualcuno che lo manda una volta che lo chiedo anzi che quando mi spaventano c'è vabbè intanto ho appena alzato il volume si è alzato nel pc l'ho visto ah che cazzo di idee mi vengono mi sono caccata sotto funziona anche bene ma che paura bellissima non vedo l'ora di metterla questa mi è piaciuta tanto anche se mi sono caccata sotto però almeno abbiamo notato che funziona bene quindi volendo il telefono puoi tenerlo in borsa e parli col telefono così per strada cioè immaginate una per strada la vedete che ne so la fermata dell'auto sì sì ciao ciao dico ma che cazzo fa questa ciao ora butta giù tu no prima tu ciao bellissimo adoro pacco 5 con la borsa telefono con il col con il culo no raghi non mi entra il culo cioè è inutile che lo votate non ci entra lo garantisco i mignoli i mignoli raghi mi si stuccano i mignoli io lo so già ha vinto un mignoli non so se essere felice o cosa prendiamo sto pacco con i mignoli ma basta un mignolo due mignoli vabbè con un mignolo penso di riuscirci eh vabbè dai è stato easy è stato easy no ma ci sono tre cose dentro dai ma ci sono tre cose in uno eh vabbè vorrà dire che l'estrazione è stata più facile perché abbiamo questi che belli raghi sono talmente inutili che sono belli ma non si vede un cazzo ma cos'è talmente inutili da essere belli non vedo un cazzo ciao dov'è il mio telefono non lo vedo ah eccolo ma che cosa poi ehm questo cosa oh che carine ma sono carinissime sono delle orecchie da tipo da elfo aspetta come vanno messe però che cos'è e ti telefono casa ma che non mi sta ah così che bello che bello mamma mia perché io valgo e poi abbiamo questa oh che carina ma è così carina è una maglia con Sailor Moon che fa ma che carina non me la provo solo perché ho caldo però cioè di quelle mosciarelle tipo da usare come pigiama o come maglia mosciarella appunto però è carina dai simpi mella a parte che non so perché Sailor Moon qua è bianca o vedo un cazzino è bianca pluppiti e ploppiti raghi c'è il vicino paglino cosa fai mamma non giocare con la parrucca abbassa i galli anche per il vicino allora raghi quanti pacchi sono rimasti ce n'è ancora uno come lo estraggo è molto simpi sembri Anastasia dal 2000 con furore aspetto il sondaggio per aprire l'ultimo pacco pa uffa 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 colezine raghi ma vi ripeto non state bene sarà il caldo colpisce un po' tutti lo sappiamo ancora con sto culo non mi c'entra il culo raghi come c'è un filo il culo dentro mignoli piedali mani unite legate il culo data vota raghi non votate il culo non mi entra è un voto nullo non mi puoi entrare qui cioè è una mano cioè mi incastro dentro il pacco eh non so che culo che volete ma ci rimango incastrata dentro dai ma ha vinto culo raghi ma non mi entra cioè volete culo non mi entra ora ve lo faccio vedere che non mi entra lo allarghiamo cioè è l'ora che qua volete tra l'altro io questa scatola me la volevo tenere per fare una cosa ora la sfonderò col mio culo cioè capite capite cosa mi fate mi fate sfondare le scatole con il culo raghi ma come posso ma porca di quella non mi entra raghi non mi entra aspetta aspetta eh raghi ma si può dai vabbè oh gesù no raghi si sta sfondando mia faccia allora aspetta ma non entra non mi entra cazzo cioè guarda aspetta la rispondo sta cazzo di borsa non esce dai non entra sei castrata vabbè c'ho un'idea ho un'idea raghi ce l'ho fatta no mi dissocio mi dissocio aspetta ce l'ho fatta raghi sono qua ce l'ho fatta me la sento no non ce l'ho fatta non ce l'ho fatta si è chiusa ora come esce raghi non esce l'ho chiusa col culo vabbè vabbè ce l'ho ce l'ho no raghi non entra cioè guardate come l'ho fatta aspetta allora l'allargo e ci faccio la mossa restring vai c'è lo scotch se si allarga e se si allarga cazzo c'è lo scotch aspetta prima di togliere lo scotch io ho cominciato dicendo farò una live senza sudare mi ritrovo a infilare il buco del culo dentro una scatola vabbè aspetta ce l'ho ce l'ho dai ah porco no vai 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 raghi è lei se fa schifo sta borsa dopo tutta la fatica che ho fatto cioè veniamo con me grazie a tutti tutta la gente che mi odia per questa per questa fecquetta ah per non far vedere le tue cose dentro ah che figa ma io in questa borsa ci metto giusto gli assorbenti cioè io ho delle borse che dentro c'è Narnia pensavo fosse più grande però beh non è male dai ne è valsa la fatica no lo rifarei sì raghi carina ci piace è simpatichina peccato che odio le borse che non hanno che non abbiano la cerniera però si chiude dentro il sacchetto quindi dai sì prendetevi per pazzo sì pazzo per Gesù carina carina la cosa più utile però è questa questa grazie spammo la tua faccia e poi esco ci sta ci piace spammate pallino anche altra me bene questo è tutto vi ringrazio per la compagnia questa live si autodristruggerà fra pochi minuti ma la troverete su youtube con le parti migliori salvate quindi avete la fortuna di dire io ho visto le parti che nessuno umano ha visto ne sono subumano anche ha visto bene questo è tutto e ciao alla fine ciao 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 Grazie a tutti.